La città è a pezzi. Noi del Movimento Cinquecento vi diciamo con tanto affetto. Al PD e al PDL. Sempre con tanto affetto. All'ODC e Scelta Civica. Sempre, sempre con tanto affetto. A Cell e a Fratelli d'Italia. Sempre con tanto affetto avevamo pensato di dedicarvi uno dei momenti più alti del grande Totò. Poi abbiamo pensato... Sono rompo gli altri. Allora vogliamo suggerirvi l'unico che può risolvere i vostri problemi. Ecco o iniziare la nostra famiglia. Allora vogliamo suggerirvi i vostri problemi. È la sua famiglia. Grazie a tutti.